Focus sulla metropolitana M1 in Regione, il consigliere regionale Simone Giudici della Lega e il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti del Partito Democratico hanno auspicato che al più presto possa attivarsi un tavolo istituzionale che sia propedeutico allo studio di fattibilità, riuniendo le parti interessate, ovvero gli enti locali, la Regione e il Governo. Come consigliere comunale di Ro, spiega Simone Giudici, ho presentato in questi giorni una mozione per discutere seriamente di questo tema chiedendo al Comune, dopo aver anche verificato l'opinione della cittadinanza, di intervenire presso il Governo nazionale sulla questione. Giudici afferma anche di aver preso contatti in Regione Lombardia dove è emersa la disponibilità a valutare una compartecipazione dell'ente per un futuro studio di fattibilità che analizzi l'ipotesi di un prolungamento della M1. Ovviamente, conclude Giudici, è necessaria anche la collaborazione del Governo nazionale che, nel caso dell'ipotesi di venti concreta, sarebbe senza dubbio il maggiore investitore per la realizzazione dell'opera. Carlo Borghetti ha invece ricordato che nel mese di luglio ha presentato un emendamento al bilancio regionale con lo scopo proprio di finanziare uno studio di fattibilità atto a valutare la possibilità di prolungare la metropolitana da roffiera. Nonostante la bocciatura della richiesta, Borghetti si è detto comunque soddisfatto perché, grazie al lavoro di squadra dei consiglieri regionali rodensi, qualcosa si sta muovendo in Regione. L'emendamento presentato dal consigliere è servito da stimolo per una riflessione seria su un tema sentito in tutto il nord-ovest di Milano. Ora bisogna auspicare che gli enti preposti siano intenzionati a incontrarsi e a confrontarsi per una discussione costruttiva.